Molto, molto, perché comunque è la prima volta che eravamo qui a Modena, la gente è apprezzata, era contenta, sono divertite anche loro. Grande festa insomma. Sì, sì, ma deve essere così, questo è lo sport. Paolo, senti, hai superato Zoff, adesso mi fai con le mani. No, ma Paolo è lontanissimo, è già una grande soddisfazione comunque aver superato un mito come Dino Zoff, un esempio per tutti quanti, ancora oggi quando lo senti parlare ti incanta, quindi è una grande soddisfazione. Ti senti anche per uno navigato come te quando sei uscito in questa serata speciale? Sì, perché comunque quando vedi che la gente apprezza, apprezza la squadra, apprezza comunque un gruppo che in un anno e mezzo ha vinto un mondiale, si è qualificato, bella festa. Senti, tu hai detto a Donadoni chiedete scusa adesso, perché non quello che ha fatto. No, chiedete scusa, perché sicuramente ha ricevuto, ma tutti quanti abbiamo ricevuto tante critiche ingiuste, prima di comunque un verdetto importante che doveva arrivare. Fabio, adesso arriva il sorteggio e rischiamo di trovarci in un girone davvero di ferro. Meglio, no? Noi riempiamo quando siamo messi sotto. Bravo, sennò dopo dicono ci rilassiamo, meglio così va. Fabio, 29 punti in un girone sono davvero tantissimi. Tanti, sì, a dimostrazione che siamo forti, a dimostrazione che se abbiamo la testa giusta, se abbiamo i stimoli, possiamo fare tante cose. Grazie. Grazie.